Innovazione come tessuto connettivo di una comunità fatta di centri di ricerca e imprese, come pilastro di un ecosistema che consenta lo sviluppo e la interazione tra le eccellenze del territorio e i migliori talenti di tutto il mondo, come rete di relazioni tra persone che costruiscono il futuro. E la visione sottesa al progetto MIND, Milano Innovation District, il nuovo distretto italiano dell'innovazione che apre ufficialmente le sue aree e le sue strutture. MIND è un progetto che nasce dalla visione del recupero dell'area Ex Expo, quindi nell'esebizione del 2015, e nasce con la visione di mettere insieme un ecosistema, cioè una collaborazione tra ricerca, innovazione e educazione, quindi un ecosistema pubblico, privato, un ecosistema di aziende, di start-up e di un sistema che acceleri un processo di innovazione e ricerca e che possa diventare un motore nuovo, economico e che supporti l'economia della conoscenza e verso cui i grandi sistemi e le grandi città si stanno tutti orientando. Di innovazione, cultura, futuro, se ne è discusso nel corso di un evento nell'auditorium dello Human Technopole che ha visto confrontarsi filosofi e uomini d'impresa, artisti e scienziati, urbanisti e banchieri. Evento che, insieme alle altre iniziative che segnano l'apertura dell'area, ha così offerto una rappresentazione dello spirito, dei valori, delle visioni che il progetto MIND persegue nel suo sviluppo. Lo spirito di questi giorni è quello di far capire che questo nuovo distretto della città, che in realtà nasce dalla fioritura che provocò in senso positivo naturalmente l'Expo del 2015, che è un evento centrale nella rinascita in qualche modo della città, possa ripartire una volta che l'ecosistema è stato ridisestimato e ridisegnato in modo che l'innovazione di qualunque tipo possa dialogare. La scommessa è questa. Cosa succede se la scienza e l'innovazione di qualunque tipo arriva e entra dentro una parte della città invece che essere separata dalla città? In che modo le discipline possono interagire tra loro per inventare qualcosa di completamente nuovo? MIND nasce da una partnership pubblico-privata tra Erexpo, proprietaria dei terreni e responsabili delle iniziative di promozione dell'area, e Land Lease, gruppo internazionale del Real Estate, responsabile della progettazione e dello sviluppo privato del distretto. Proprio la collaborazione pubblico-privato su un progetto di sviluppo metropolitano così ampio costituisce il pilastro principale dell'ecosistema che si sta sviluppando. Pubblico-privato è uno dei pilastri dell'ecosistema. Sicuramente è una sperimentazione prima in Italia di una relazione così importante tra un pubblico e un privato per un periodo molto lungo. È una scommessa che i privati e il pubblico hanno fatto per 99 anni su quest'area per costruire e collaborare in maniera continuativa e portare a fattor comune quanto di meglio il privato riesce a fare, quanto importante e di supporto il pubblico deve dare all'interno di proprio un ecosistema che è collaborativo. Quando parliamo di ecosistemi parliamo di relazione di scambi, parliamo di contaminazione di sapere, contaminazione che porta spesso a dover ridefinire anche le regole del gioco. È qui dove il pubblico e il privato devono collaborare. Gli investimenti complessivi su Mind raggiungono i 4 miliardi e mezzo di euro. Unico in Europa per dimensioni e modello di rigenerazione, il distretto si sviluppa su un'area di circa un milione di metri quadrati. 350.000 destinati allo Human Technopole, all'ospedale Galeazzi, a Cascina Triulsa e al campus scientifico della Statale. 480.000 a destinazione mista, uffici, residenze, retail e verde.